Per me è difficile accontentare tutti, però ovviamente nel momento che abbiamo pensato di seguire determinati giocatori l'abbiamo fatto esclusivamente pensando alla loro prospettiva. Ma la coppia d'attacco sinceramente non l'ho ancora pensata, anche se abbiamo in questo momento sei giocatori che possono integrarsi. Stiamo lavorando proprio per cercare di avere un equilibrio di squadra per poter sopportare i due o tre attaccanti. Abbiamo sicuramente pensato al futuro, abbiamo intravisto i giocatori giovani con delle buone e ottime prospettive. Ovviamente da qui a dire scenderanno in campo è un po' presto. L'emozione che può dare la maglia azzurra è un'emozione talmente forte che è difficile anche spiegare. All'inizio ho cercato di far capire quello che provavo io, perché tu stai indossando la maglia di tutti, non è una tua maglia. Non c'è il tuo nome, ma è un nome che dà in prestito a questa maglia azzurra. Quindi l'emozione deve essere quella di emozionare tante persone. Allora, in questo momento siamo concentrati per gli europei. Commetteremmo veramente un grosso errore se la nostra testa, il nostro pensiero fosse rivolto ai mondiali. Inizieremo a lavorare soprattutto da un punto di vista tattico sui particolari, anche senza esasperare più di tanto questa vigilia, perché già il fatto di dire Spagna c'è già una grande motivazione e un grande stimolo per arrivare pronti. Dobbiamo cercare di arrivare veramente preparati anche da questo punto di vista, di non spendere le energie prima della gara. Le squadre sono, secondo me, la Spagna, la Germania e l'Olanda. La Spagna è detentrice della Coppa del Mondo e Coppa Europa. La Germania è riuscita in poco tempo a cambiare veramente la mentalità da un punto di vista calcistico. L'Olanda per la grande tradizione, ma soprattutto per i talenti che ha ancora in campo. Le cose belle, non soltanto perché è una donna, fanno piacere ovviamente. È un medico molto molto apprezzato, è un medico sportivo. Abbiamo un grande rapporto con il professor Castellacci, quindi vi posso permettere di fare ovviamente lo spiritoso. Abbiamo uno staff medico di primo ordine. Professionalmente sono molto credibili, ma da un punto di vista umano sono altrettanto persone importanti e valide. Non so assolutamente recitare, quindi è stato straordinario il regista, perché dava la colpa sempre agli altri quando ripetevano le scene, ma ovviamente sapevano che era per me. L'ho ripetuto, è stato talmente abile il presidente del Napoli di Orenti. Mi ha incastrato e di fatto gli ho fatto il complimento e ho detto che non vorrei mai avere la necessità di confrontarmi con lei da un punto di vista contrattuale, perché vorrebbe dire che dovrei firmare in bianco. Da questo punto di vista la nazionale è organizzatissima, è veramente all'avanguardia e anche perché usiamo l'alta tecnologia proprio per personalizzare gli allenamenti dei giocatori. No, sinceramente non lo uso. I miei figli sì, sono delle novità, tra virgolette, quindi le nuove generazioni usano questi sistemi e non so come definirli, però parlando con i miei figli, se non sei dentro questo sistema sei fuori. Quindi vuol dire che noi o ci adattiamo oppure siamo veramente vecchi, tra virgolette. E quindi c'è da parte nostra la curiosità, ma al tempo stesso vogliamo comunque mantenere un certo distacco, per quanto mi riguarda. Sai, di solito due poli forti possono far scaturire l'energia talmente forte e positiva che dobbiamo pensare che possono non solo far bene, ma trasmettere qualcosa di importante. Io sono convinto che stanno maturando questo. Noi abbiamo bisogno di questo entusiasmo, abbiamo bisogno di ragazzi giovani che hanno voglia anche di comunicare, che hanno voglia di trasmetterci i messaggi, anche attraverso quei numeri che si diceva prima, perché vuol dire che la maglia azzurra è una maglia che... perché è l'unico momento dove tutti sono tifosi di una maglia. E quindi è una cosa straordinaria, una cosa bella, emozionante e questo entusiasmo per noi è energia, vitalità e voglia veramente di usare.